Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di GeneticDNA E continuiamo con Bioshock Dopo aver ucciso i nostri amici a modi valser killer Proseguiamo Allora dovremo completare il quadrittico Dovremmo completare il nostro quadrittico Del nostro carissimo amico schizzatissimo amico schizzatissimo amico Quindi Dovrebbe essere il quindicesimo Ma va bene Uccido i desideri Ti vedo male amico qua Bene Entriamo nel frigorifero E andiamo alla caccia Tra l'altro in questi giorni ci sarà La rubrica video acquisti Come avevo già annunciato nel gameplay di Dead Space Ci sarà una piccola In più ci sarà un piccolo video Riguardante questo weekend Tu parli sempre in quel modo Nel modo più strano Riguardante questo weekend Riguardante questo weekend Va bene Dove sei? Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac Dove cazzo sei stronzone? Eccolo lì Bam Perché farlo soffrire? Ok cerchiamo qualcosina Quindi andiamo a cercare il nostro bizzarro amico Oh sentite 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 una sorellina 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 Bam Ho sentito una sorellina La voglio Voglio uccidere il Big Daddy Bene Questa è una sorta di troiaio Dovrebbe essere qua il nostro amico bizzarro Cos'è? Questo è No Ok Allora No Non lo voglia Ok Allora Dove cazzo sei? Maledetto Che cazzo è? Ma Oddio Sta puttana Ma Ti dovevi caricare proprio adesso Fucile di merda Ok Dove va a cagare te? Ma io Sono sicuro che è qui da qualche parte Ma io Ho sentito Ho sentito la voce di una sorellina C'è una telecamera Ho sbaglio Sentite 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 Dove sei? Big Daddy Cazzo Ops Scusate Dove è sto stronzo? Mi dice che è qua dentro In questo troiaio qua Forse magari era dentro Cazzo Ma dove sei? Porca trota Faccia di cazzo Ma forse qui dentro Oddio 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 Oh cazzo Vaffanculo Va Un flash Ti vedo bene Chi sei Jasmine? E quella di Alatino Forse non si chiamava così Vabbè C'è qualcosa che posso rubare E la cassaforte Sì usiamo questo Perché non ho voglia di rompermi le palle Tac tac Ehi Mi è arrivato un messaggio Cazzo Possibile che non ci sia nessuno a servire E' ubriaco Ciao Boom Eccolo lì il bastardo Fermati Fermati Cosa c'hai? Fuoco al culo E mori E mori Ero un altro piccone Ma robusto Scano il culoccio Che si asciughi completamente Daaa Bella fotografia No ma guarda Hai girato a culo in su Ma che palle Cis Ma che bello Bene Riportiamo La foto Sì sì Riportiamo la foto Veloce Veloce Ma che bello Riportare Qua continuo Incastrarmi nel muro Aiuto Ma sì Ma sì Ma sì Ecco qua Il quadrittico Tadà Abbiamo completato Il quadrittico Eeeh Ciao Bigolo Lo cazzo Tu sei fuori Come una biglia Oddio 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 Che cazzo Ti piace? Vedrai che adesso La via per Ryan È libera Ti piace? Degli che salda Lo salva va bene puoi servirti di una delle mie opere minore come ricordo del tempo passato insieme se fossi diventato il mio solo e vero discepolo forse saresti stato degno di guardare lo screen della mimosa personale preferisco non ricordare il tempo passato con te stavo così bene senza di te Atlas va bene vado bene abbiamo finito la missione qua e adesso andremo in quell'altro posto non so come si chiama e pe 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 eh beh 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 sì ok allora adesso ragazzi io vabbè dopo torno indietro e vado a cercare le sorrelline ora però andiamo avanti quindi niente qui abbiamo finito e ora ci richiamo a vabbè quel posto lì che non so come si dice vi aspetto al prossimo gameplay ciao ciao da GeneticDNA grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.